Trucco per Captain Silver per Sega Master System È possibile, dopo aver perso tutte e tre le vite, continuare E questo trucco funziona per tre volte e basta Allora io adesso sto perdendo le mie tre vite Quando compare la scritta Game Over bisogna tenere premuto su e premere il tasto 1 Cioè quello che serve per utilizzare la spada Vediamo, ecco E quindi per tre volte si può continuare Poi ovviamente qui sono al primo livello e non ha molto senso utilizzare questo trucco Però funziona anche negli altri livelli Grazie per la visione Grazie a tutti